Ci accingiamo al montaggio del decespugliatore a ruote Domino TS. Cominciamo dalle ruote. Assicuriamoci che il verso della ruota sia quello giusto. Un'operazione abbastanza semplice. Facciamo la seconda ruota. Facciamo la seconda ruota. L'impronta del pneumatico deve essere una V capovolta frontale. Adesso montiamo la parte che dovrà poi servire per il taglio dell'erba. Solleviamolo. Solleviamolo. Allora, questo pezzo va inserito sotto con una vite lunga. Vai. Passalo un po' un po'. Aspetta. Vai. 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 Giù. Vai. 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 Sietealie. M. questo vi dando va bene un po' Grazie. 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 Stringiamo da qua, così via. Bene. Stringiamo tutte e quattro le viti con i dadi. Gommi! Le mani nostre passate. Sei pronto? Montiamo la lama, inserendola qui, molto semplice. Ecco. Mettiamo questo pezzetto. Qui, ecco. E facciamolo incastrare. Grazie. 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 Facciamo attenzione che la lama è tagliente. Ecco. Adesso è andato. Sì. la lama è montata è stata montata la lama è stata montata mettiamo l'ultimo pezzo mettiamo i tappi di plastica è entrato? si può andare ancora a tutti e due i lati ecco via ci aggiungiamo a mettere l'ultimo pezzo e lo regoliamo per un'altezza dell'erba a 6 cm mettiamo al primo foro la vite con la rondella e il bullone mettiamo anche la seconda vite ecco qua e il bullone facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato e stringiamo le vite e i bulloni montiamo la protezione per i piedi tutti i bulloni da sotto la vede da coppa quindi andiamo Stop, Andrea. ah Grazie. Stringiamo le viti e devo terminare.